Live Social Benvenuti, bentrovati qui con noi su Live Social Oggi continuiamo il nostro bel cammino attraverso tutte le belle professionalità di tutta Italia ma come sempre lo facciamo con i nostri ospiti Abbiamo infatti il piacere di avere in collegamento telefonico con noi Davide Maso, consulente finanziario Ciao Davide, grazie di essere con noi prima di tutto Ciao, buongiorno a tutti, grazie, grazie mille benvenute e grazie anche agli ascoltatori Dunque, tu sei un consulente finanziario e patrimoniale io non so se mi trovi d'accordo ma trovo che appunto c'è una bella distanza tra quello che noi pensiamo e la tua figura professionale diciamo che c'è un po' mancanza di informazione per cui chiediamo a te di aiutarci a fare chiarezza riguardo la tua figura professionale Ho il privilegio di fare questa professione da 30 anni e ho vissuto l'evoluzione di questa magnifica professione Il ruolo del consulente finanziario non è più quello di una volta che semplicemente si occupava di piazzare volgarmente parlando prodotti finanziari ma è diventato una figura molto importante all'interno di un nucleo familiare che sia un privato che sia un imprenditore quindi è diventato una figura estremamente fondamentale e che ha un ruolo sociale molto molto delicato e importante Per esempio, facci un esempio di come si può estaurare un po' un rapporto con il tuo cliente La cosa fondamentale è cercare di entrare in relazione La relazione con il cliente si acquisisce, ovviamente si instaula da subito ma si alimenta nel tempo L'obiettivo è quello di avere la fiducia incondizionata da parte del cliente ma perché si entra nel vivo, nell'intimo del cliente, del suo nucleo familiare La risposta più importante è proprio quella di riuscire a soddisfare quelli che sono i bisogni di vita economico-finanziaria del cliente I bisogni vanno trovati insieme quindi ognuno di noi ha un'età semplicemente ha dei progetti ha una situazione economica ha una professione e vanno scovati pian pianino con un lavoro fatto bene fatto di domande ed analisi fatte, ripeto, insieme al cliente su quelli che potrebbero essere i progetti che ognuno di noi ha perché ognuno di noi ha dei progetti mi permetto di aggiungere io faccio molti eventi che trattano l'educazione finanziaria e vedo che c'è molta, molta richiesta, molta fame di informazioni di qualità È molto, molto importante per cui io giro, insomma, l'invito anche ai nostri amici ascoltatori e insomma vi do in modo magari anche di contattare il nostro Davide Maso magari anche per vedere questi eventi che fa o per qualsiasi consiglio, curiosità anche per, diciamo, un consulto Voi lo potete trovare tranquillamente su Facebook digitando Davide Maso Consulente Patrimoniale il suo sito web dove potete avere tutte le informazioni necessarie è www.davidemaso.it e lui risponde gentilmente all'email davidemasoconsulenza.gmail.com Tutto corretto? Tutto corretto Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi averci aiutato a fare chiarezza insomma, averci anche dato qualche bella dritta che sicuramente potremmo mettere in pratica Grazie ancora Grazie a voi, grazie dell'ospitalità Live Social